Sono il codice 3, dietro il pirata della strada. Vuole eseminarmi, restate in linea. Centrale confermo, il tipo è codice 6, richiedo rinforzi immediati. Codice 6, incidente, l'unità lo stanno circondando, lo abbiamo preso facilmente. Centrale, il fospetto si è appena librato in aria, non si arrenderà facilmente. Ok, già passiamolo e rallentiamolo. Seguitevi con attenzione. Preparate un banco stradale, questo tipo è un rosseguro. Centrale, il fospetto sta cercando di buttarmi fuori strada. 10.33, 10.33, annullare la copertura, mi serve subito aiuto, codice 3. Su, 1, 2, continua il tuo insegnamento. Ho perso la visuale del veicolo, proseguo. Corrego, è proprio davanti a me. Centrale, inviate soccorsi sulla nostra posizione. Il sospetto ha speronato un'auto civile. 10.37. Sono 14. Chiamata ricevuta, sono sulla scena. A tutte le unità, priorità 2. Centrale, forse lo picco adesso. Si è appena riusciato. Sta passando sul lungomare. Verso il contatto visivo, restate in attesa. Inviate unità di contenimento. L'ho perso. Di nuovo dietro, non vuole fermarsi. Dal mio cofano escono fumo e olio. La mia auto è fuori uso, abbandono. Avviso alle unità in copertura. Il veicolo è stato visto l'ultima volta in direzione est, sul lungomare. Predisposizione quadrante intorno all'ultima direzione nota. Centrale, qui 4 Delta 23. Sono solo in questa zona e richiedo un 1085. Centrale, qui 4 Delta 23.